Un film con alcuni giovanotti un po' anemici, un po' abulici, un po' afasici, un po' lobotornici. E ce ne occupiamo perché? Perché questo è il famoso live action di Devilman. Lo hanno definito come il peggior film giapponese dell'anno in cui è uscito, cioè il 2004. In questa scuola i giovani sembrano avere una sola occupazione, cioè quella praticamente di pestarsi tutto il santo giorno a sessi separati per i più futili motivi. Sei... bello, Ryo Asuka. Facciamo una demo su questo film perché in italiano non c'è ancora. In una sorta di rito, di iniziazione, Akira si misura per la prima volta con un altro demone. Io... l'ho ucciso, è vero. La venerazione che Akira Fudo ha per il suo antico compagno di giochi, cioè Ryo Asuka, lo porta fino a un punto di non ritorno. Io... sono... un demone ormai. In italiano si può dare anche un filo di sgomento in più perché effettivamente da questo momento in avanti la vita di Akira cambia irrimediabilmente. In molte scene Akira è a scuola con i suoi coetanei e allora è credibile effettivamente che in queste scene abbia una voce più consona alla sua età rispetto alla mia, che naturalmente la sua età l'ho passata da un pezzo. Essendo questa una demo, sperimentiamo un pochino, per cui non vediamo il solito collega di dieci anni più giovane che fa il ragazzino perché allora ci risiamo. In questa demo proviamo a vedere che cosa succede mettendo a microfono un vero sedicenne. A domani. Ci salutavamo sempre con le stesse parole. Vi assomigliate ma non mi piace molto. È una vera fortuna che non siate parenti. Sai, lui non sorride mai. Perché gli stai sempre appiccicato? È che il giapponese è un problema, io non capisco ciò che dicono. Questi dialoghi non hanno il minimo senso. È un problema anche per me perché invece io capisco quello che dicono e quindi qualche volta mi inceppo. I poteri di te, Filmen, hanno abbandonato il mio corpo. Non hai scampo, Amon. Sulla tua coscienza domina la tua natura umana. Spettacolo indegno. Muori. Mi chiamo Erika e il doppiaggio mi piace da sempre. Io sono Marco. Mi chiamo Antonella e dopo prime esperienze di teatro ho capito che il doppiaggio è più la mia dimensione recitativa. Lei è più brava a parlare. Il povero Chira ha un rovello. Cioè essere Devilman gli sconvolge l'esistenza ma vorrebbe mantenere almeno il legame con Mickey. A dopo. Ciao. Mickey, ascolta. Hm? Se io non dovessi restare umano... Umano? Niente. Non importa, dopo. Però non hai il coraggio di parlare con lei fino in fondo, di essere sincero fino in fondo. Io sono Jimman. Tu chi sei? Che è appunto un rettile con una specie di tartaruga demoniaca. Io ti ucciderò, Jimman. Ma perché vuoi uccidermi? Non sei anche tu un demone? Vedevo Goldrick, poi crescendo anche Neil Guerriero che aveva queste caratterizzazioni molto strane. Bruno Cattaneo che faceva diverse voci. Dove sei Iuda? Ti troverò. Giura di amarmi? Sei una bestia. Cosa ti ha fatto cambiare così? Comunque ho questa voce molto particolare, molto rauca. Stai dalla mia parte. I demoni non si uccidono tra di loro. No, io non sono un demone. Io sono Devilman. Umano, come quelli che hai ucciso. Sia chiaro. Li abbiamo sempre definiti demoni, comunque. Ma etimologicamente demone è quella via di mezzo tra l'umano e il sovranaturale. Allora, nel caso di Silen dell'Arpia, Silen effettivamente è così. Ma nel caso di Jimmen effettivamente no. Perché Jimmen è una tartaruga demoniaca. non ha nulla di umano assolutamente. Per cui definirlo demone è improprio. Naturalmente l'alternativa sarebbe demonio, però questa è una scelta in italiano già un pochino più impegnativa. Per cui sostanzialmente e tradizionalmente è rimasto sempre demone. Non li ho uccisi. Li ho solo mangiati. Gli umani non mangiano forse gli animali. Io ho mangiato esseri umani. Tutto qui non sono come Satana. Satana. Con sene alla Matrix, tra l'altro. È una macedonia di film, come spesso succede quando i giapponesi ci si mettono. Bellissimo. Appena di prima. L'horror demoniaco e anche un po' di Resident Evil. Nel senso che a un certo punto tutti quanti potrebbero essere demoni. Siamo come quelli veri che si mettono così. E cioè alla fine, all'inizio. Allora vai, comincia. Ciao Miki. Miko, ma che fine hai fatto? Non ti ho più vista, mi hai fatta preoccupare. Non potevo proprio venire. Akira Fudo a un certo punto del film, finalmente, ha le idee chiare. Io sono diventato Devilman per difendere gli umani. Per difendere Miki e tutti gli altri. Lo sopporto soltanto per questo. Chiaro? Io porterò a compimento il mio destino. Cuore senza tecnica è impossibile. Quindi sì, ci deve essere, credo, una base di intenzione. Ma poi senza tecnica non credo che si possa andare avanti. Giustamente. 50 e 50. 50-50. Perché comunque tecnica, sì, la base della tecnica ci deve essere. Però senza cuore. Non c'è neanche la parola senza cuore. Non ho nessuno a cui rivolgermi. Sono un demone e la mia vita non ha valore. Ma questo ragazzo è umano. Salvalo, ti prego. Guarda che puoi venire anche tu. Non posso perdere. Isabella e Pegasus stavano insieme davvero. Buonanotte, taglia, taglia e ciao. Se mi recupero anche Barbara D'Urso. Adesso posso anche staccare la... Porterò a compimento il mio destino. Alla voce più fonda della mia. Tutce più fonda della mia. Grazie a tutti.